Salve a tutti e benvenuti nel corso avanzato di inglese di Accademia Formalia. Io sono Denise e vi accompagnerò durante questo corso per i primi tre moduli. Nei primi tre moduli infatti vedremo i verbi, la grammatica nel secondo modulo, mentre il terzo modulo sarà dedicato a lettura e scrittura. Invece per quanto riguarda il quarto modulo vedremo solamente la comprensione del testo, quindi una serie di testi con esercizi annessi di cui poi alla fine troverete le soluzioni e che vi lascerò modo di completare da soli. Nel primo modulo vediamo appunto i verbi e precisamente i tempi più complessi, diciamo come il present perfect, il past perfect e il past conditional. Oltre a questi poi vediamo tutti e quattro i modi di esprimere il futuro e i verbi frasali che sono un costrutto particolare della lingua inglese ed infine il passato con used to. Invece nel secondo modulo ci dedichiamo a un po' di costruzioni grammaticali come la question tag, i modi in cui si può esprimere un desiderio, un rammarico e il relativo periodo ipotetico, la struttura causativa dei verbi e il discorso indiretto, ovvero come riportare frasi, domande dal discorso diretto a quello indiretto. Nel penultimo modulo, invece il terzo, vediamo un po' di tecniche di lettura, ovvero tecniche diverse con obiettivi diversi adatte a vari tipi di testi. Dopodiché ci dedicheremo alla scrittura del testo in inglese, ovvero vedremo proprio come usare le maiuscole, la punteggiatura, le date e poi come scrivere una lettera, formale e informale, un'email e un curriculum vitae e la cover letter. Iniziamo il primo modulo dei verbi con il participio passato che nei verbi in inglese si forma come il simple past, ovvero aggiungendo il suffisso id alla forma base del verbo, tranno ovviamente per i verbi irregolari che vedremo più avanti. Il participio passato dei verbi è invariabile, ovvero non concorda né con genere né con numero e si utilizza per costruire molti dei tempi verbali composti che vedremo più avanti. Con questa tabella vediamo i verbi che modificano leggermente la loro forma base quando aggiungiamo il suffisso ed. Quando il verbo alla forma base termina con e, aggiungiamo soltanto la d. Decide, decided. Quando termina con consonante più y, la y diventa i e aggiungiamo ed. Study, study. Quando invece la forma base termina con una vocale accentata e una consonante che non sia...